cari amici di mille un'avventura in questo video andremo a vedere una serie di programmi anzi un programma in particolare che consente di organizzare al meglio gli assets che l'unreal engine ci ha regalato in tutti questi mesi se avete seguito il canale avete sempre notato che io sottolineo mese dopo mese gli assets cioè questi modelli tridimensionali o anche librerie o altre cose che riguardano l'unreal engine e vengono regalati puntualmente tutte le tutti i mesi in particolare ecco qui che andiamo a vedere velocemente per poi scoprire quale software ci permetterà di organizzare al meglio tutte queste cose ecco vediamo che esiste questo ultimate ship package questa nave pirata che come vedete è molto ben dettagliata e che viene regalata proprio in questo mese di agosto ci sono tanti oggetti interessanti poi sempre in questo pacchetto regalato regalato questo mese c'è anche questo museo qui suggeriscono che potrebbe essere effettivamente un museo o si potrebbe pensare anche a una banca dove viene effettuata una rapina altro asset molto interessante poi sempre in questo in questa serie ci sono alcune realizzare delle interazioni i nostri modelli possono interagire in vari modi con l'ambiente circostante anche questo è interessante per creare giochi di vario tipo e poi ci sono questi coralli che abbiamo visto anche prima nella schermata iniziale molto belli molto luminosi e infine la cosa forse che ci interessa di più come italiani è questa venezia con questi palazzi che possono essere costruiti in modo modulare realizzando vari scorci di venezia molto interessante anche questo magari lo riprenderemo in un video futuro ecco tutti questi assets sono quelli di questo mese ma ne sono stati regalati tanti altri in passato e qual è il problema è che epic games ha un launcher che serve anche per far partire fortnite per esempio che è lentissimo ci vogliono minuti e minuti prima che compaia questa schermata qui e anche quando è comparsa questa schermata ci vuole tanto tempo tanti minuti perché i pulsanti diventino attivi ecco vedete qui ho abbreviato un po i tempi ecco però insomma se uno prova a cliccare non succede assolutamente nulla e intanto ci si sorbisce gioco dopo gioco i vari videogiochi messi in evidenza come fc24 dead island 2 insomma bisogna attendere parecchio tempo e alla fine finalmente si riesce a ottenere a scusate ma secondo voi questo è nicolas cage c'è scritto che in dead by daylight è entrato un attore leggendario nella nebbia di questo gioco nicolas cage secondo me non gli assomiglia per niente vabbè ce lo vendono come nicolas cage a meno che non sia molto sciupato negli ultimi anni me lo ricordavo un po diverso comunque dicevamo ci vuole un sacco di tempo perché diventi tutto quanto attivo e qual è la novità anche ovviamente se noi dovessimo andare adesso sull'unreal engine ci vuole anche qui del tempo per andare sulla biblioteca dei nostri assets quelli che mese dopo mese abbiamo raccolto e vedete quanti sono e le opzioni di ricerca sono assolutamente insoddisfacenti vedete quanti assets ho raccolto qualcuno diceva sei un collezionista compulsivo di videogiochi di assets di cose di questo genere probabilmente sì ma prima o poi magari li userò sperando che non siano diventati obsoleti e dicevo che le opzioni di ricerca sono decisamente limitate si può solo mettere il nome dell'asset oppure filtrare per categoria ma sono categorie abbastanza limitate per esempio se volessi cercare questi pupazzetti per creare un rts uno strategico in tempo reale se non mi ricordassi che nel nome c'è rts non riuscirei a trovarli facilmente dovrei scorrere tutti questi assets e diventerebbe sicuramente una cosa difficile ma finalmente vedete che c'è questa opzione asset manager punto studio è una fermiamolo un attimo ecco è un'applicazione che si fa si va interfacciare col nostro account di epic games spero in modo pulito che non facciano dei pasticci e ha tutta una serie di opzioni molto interessanti la prima è che è velocissimo si apre in un attimo e la seconda è che si possono fare vari tipi di ricerche sugli assets e anche aprire i progetti e quant'altro adesso lo andiamo a vedere in esecuzione è ancora in versione beta addirittura una beta 0.0.13 quindi usatelo con un minimo di accortezza però in effetti è qualcosa che può essere utile per chi usa unreal in modo frequente non può far partire fortnite ma tutto quello che riguarda l'unreal engine ecco ci sono una versione portabile per windows oppure quella io ho installato appunto l'installer di per windows e c'è anche la versione per linux e stanno preparando la versione per mac os una volta installato si apre questa schermatina qui con alcuni suggerimenti che riguardano unreal ovviamente la prima volta che vi connettete dovete accedere col vostro account epic games quindi si inserisce come al solito l'indirizzo email la password si mette anche eventualmente il codice di sicurezza se avete usato l'opzione a due l'ingresso a due fattori e poi eliminando questa finestrella con tutti i suggerimenti del giorno ecco si ha questa finestra molto minimale per il momento chiudiamo i suggerimenti del giorno perché ce li guarderemo con calma un'altra volta ecco si apre questa finestra molto minimale però contiene tutto quello di cui c'è bisogno bisogna specificare nei settings dov'è il vostro file di progetto dei progetti su unreal se li avete messi in una locazione che non è magari quella standard quella solita perciò dove c'è scritto base project andate a scrivere il vostro la cartella dove si trova poi se cliccate su assets ecco qui tutti i miei assets di unreal tutti nessuno di questi è stato comprato e potete filtrare vedete si mette si mette rts esattamente come nel nell'applicazione originale e salta fuori tutta la serie di assets che hanno a che fare con gli rts in particolare questo che contiene rts nel suo nome ci sono davanti io ma tanto non è non è importante questa cosa altre cose anzi visto che magari andiamo avanti ci spostiamo un attimo da questa parte ecco qui vedete tutti i motori avete visto tutti i motori disponibili e poi gli asset che sono stati caricati io ho 100 gigabyte di assets che ho usato in qualche progettino in qualche video e sono questi che sono sul mio disco rigido tutti gli altri giga e giga di dati ovviamente non sono qui sul mio disco rigido diventerebbe un po troppo complicato avere un disco rigido abbastanza capiente perciò abbiamo visto che ci sono i filtri si può appunto ordinare i nostri assets secondo determinati criteri si possono anche scegliere mediante dunque questi sono i motori che ho a disposizione quindi la versione 5.2 installata e la versione per fortnite unreal engine per fortnite ecco si possono selezionare anche i tipi diversi di assets per esempio adesso qui in versione beta quindi ci vuole un attimo ma possiamo scegliere tutti i possibili plug in ed eccoli qui possiamo anche ordinarli secondo certi criteri questi sono invece gli assets che in realtà sono dei veri e propri progetti completi che possono essere importati direttamente nel real engine e poi utilizzati immediatamente questo invece ho cliccato su mega scans trovate tutti i materiali le superfici gli oggetti che sono stati scannerizzati dal vero tanto per vedere un'altra categoria ho scelto weapons e di solito nei giochi è una cosa molto comune e qui vedete ne ho solo tre che fanno parte della categoria weapons un AK47 poi qui altre altre armi un M16 una mitraglietta due tipi di AK47 e poi queste armi medioevali non ne hanno regalati tanti di questi tipi di assets ma se andiamo sui personaggi ecco qui tutti i personaggi che in questi mesi abbiamo raccolto c'è questo bellissimo pastore tedesco oppure questi altri animali volpi cervi e così via oppure personaggi come questo cavaliere medioevale con varie livree oppure c'è anche abessi qui sto mostrando che si può ordinare in vari modi con la data di modifica per esempio e qui vedete un altro personaggio un pirata con tre diverse skin possibili varie armi la pistola che potrebbe in effetti essere associata alla nave che avete visto e regalata questo mese ora da qui si può vedere che possiamo lanciare il nostro unreal engine con un progetto che avevamo già creato tempo fa ovviamente bisogna attendere i soliti tempi biblici di caricamento ma la pesantezza dell'engine e anche la sua potenza ed ecco qui che si sta aprendo il progetto con i vari carri armati che facevano parte di un altro asset regalato tempo fa non è di questo mese ecco vedete no non vedete perché ci sono davanti io adesso cerco di togliermi ecco qua che mi sono tolto di mezzo e niente finiamo perciò questo video andando a distruggere il carro armato avversario poi lì c'è un uno dei personaggi in posa a ti e ora vediamo se davvero riusciamo a distruggerlo o se è un iron man indistruttibile ecco che la polvere si è dissolta e non ha subito alcun danno ora proviamo a investirlo ecco ma è duro come la roccia ecco non è un personaggio inserito qui in modo realistico possiamo anche provare a sparargli a bruciapelo visto che siamo ecco vedete è indistruttibile bene in questo video abbiamo visto e qui sotto in descrizione trovate il link se vi interessa per scaricarvi il programma e anche alcuni assets che sono gratuiti a me non resta che ringraziarvi per l'attenzione ci si rivedi in un prossimo video in una prossima diretta ciao a tutti